Ultimo consiglio regionale oggi all'emiciclo prima del voto. A parte due progetti di legge, in consiglio anche il Pritto, meglio gli aggiornamenti al piano regionale integrato dei trasporti. L'aggiornamento riguarda l'arretramento della ferrovia tra Tortorete e Albadriatica, nuovi bus veloci a emissioni zero, elettrici e idrogeno verde, una rete di interscambio diffusa sul territorio regionale tra bus, bici elettriche e macchine, colonnine di ricarica e parcheggi. Ma il Pritto è soprattutto un insieme di linee guida sulla mobilità da mettere in campo entro il 2025, valide per molti altri anni. Il sottosegretario D'Annuntis fa il punto della situazione. Ma se si arriva tardi sicuramente la responsabilità non è di questa giunta, in quanto il Pritto ha iniziato la sua storia nel 2001, è stato approvato in giunta solamente nel 2012 e in consiglio nel 2016. E' chiaro che poi nel 2021 il Ministero ci ha comunicato che non c'erano le condizioni abilitanti, condizioni abilitanti che impedivano poi di accedere a dei finanziamenti, finanziamenti soprattutto per quanto riguarda il FESER. Noi quindi lo stiamo adeguando, l'abbiamo adeguato, abbiamo dovuto recuperare il tempo perso e quindi oggi siamo pronti per dare un piano regionale dei trasporti che possa essere valido fino al 2035, in quanto quello precedente, predisposto dalla precedente giunta, aveva come obiettivo il 2020 e questo non garantiva le condizioni abilitanti. Ma per le opposizioni è indecoroso che la maggioranza porti in aula provvedimenti importanti senza discussione alcuna, poco prima del voto, così è stato per la rete ospedaliera, così per il PRIT. Noi pensiamo che sia del tutto indecoroso appunto portare provvedimenti importanti che parlano di programmazione, di destino dell'Abruzzo e degli Abruzzesi a tre mesi dal voto come è accaduto per la rete ospedaliera, a due mesi dal voto come è accaduto per la legge riforma sull'urbanistica e addirittura a pochi giorni dal voto per quanto riguarda il PRIT. Quindi penso che ci sia veramente di che scandalizzarsi nel metodo in cui sta agendo questa maggioranza. Pensiamo che sono provvedimenti importanti che richiedono un'azione di confronto con i portatori di interesse, con i cittadini, con i territori per meglio decidere. Non si può decidere o prendere decisioni a pochi giorni dal voto, non è corretto e non è giusto.